ma come non l'hai ricevuta ma si ma l'ho postata su tutti i social ma come no per favore si si è il primo modello ti ho detto quello che ho visto ieri al centro aspetta che ho un whatsapp una chatta aspetta devo postare un attimo l'hanno vista tutti tranne te ma che non lo sai che mi uploado tutto come cosa mi uploado mi uploado ho due smartphone mi sembra il minimo ma uploado mi uploado mobile uploado caricare postare condiviso no il linker no il figo ma capi che sta qua è il telefono di quelli vecchi aggistori come quale guarda che schifo adesso te lo inquadro guarda che schifo lo vedi mamma mia gridiamo ma che fai da me vattene una monetina per il sorriso si una monetina tien tien mi scusi ma mi sa dire dove si trova a Castelzentano ora devi andare dritto per questa strada poi all'incrocio a sinistra poi a destra poi al semaforo dritto e sei arrivato grazie 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 E' il telefono, dammi il telefono. Ma che è sto fossile? Come funziona? Come funziona? Dalla a me, ma che telefono hai? Dammi il numero, dammi il numero. Il numero. Oddio, le faccio la musica con tanti. Oh, svegliati. Oddio, non l'ho mai visto. Svegliati. Svegliati. Grazie a tutti